Ciao a tutti, oggi è il mio primo video in italiano. Molte di voi non mi conoscete, ma io ho fatto un video prima in spagnolo, mi ho tradotto in italiano, quello del doppio mento, e ho ricevuto a tanta gente che mi hanno iscritto, mi hanno detto dai, tu sai parlare italiano? Sì, sono parlato italiano, ma non parlo tanto bene italiano, perché sono abitata tanti anni fa in Italia, ma non mi ricordo, ma non è che parlo tanto tanto bene. Però allora mi hanno detto dai, farlo, farlo, perché molta gente vuole conoscerti, molta gente, io, come faccio? Io provo, io provo, non ho perso niente di provare tutto nella vita, come magari molti di voi, però allora oggi faccio un video, guardando che è vicino l'estate, la primavera, fare tante cose per stare in forma, allora io ho pensato a fare un video oggi di un metodo molto molto semplice per andare via la cellulite, eh sì, quella che non fai a tutti impazzire, soprattutto quando arriva l'estate, soprattutto quando siamo, abbiamo voglia di avere quel corpo troppo bello, ma allora io, io oggi porto questo, questo rimedio molto semplice, allora io ricordo perché faccio questo video, perché io, qui in Latinoamerica, ho una ragazza che si chiama Talia, che molti di voi, magari voi conoscete, in America del Sur o in Sud America, è molto conosciuta, e lei è una diva, è molto bella, molto bella, io sempre l'ho seguita perché mi piace molto lei, è molto, molto spirituale, come sono un po' io, e allora, e guarda, e lei aveva un libro, che io ho comprato, e lei diceva che faceva, per la sua linea, faccia un trattamento di LPG, LPG che è endermologia, e, vabbè, io ho deciso di provare questo metodo, perché lei ha detto che è molto, molto, molto efficace contro la cellulite, però io, ho detto, vado a farlo, ho trovato qui, perché molti di voi sapete che io abito in Francia, allora, qui in Francia ho trovato, ho trovato questo metodo, ma è molto, molto caro, io, ogni seduta è, non lo so quanto, magari c'è in Italia, ma non so quanto è in Italia, però qui in Francia è più o meno da 50, 60, dipende del, 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 del specialista che lo faccio, beh, io l'ho trovato uno buono, me l'ho fatto, ho fatto una, e comunque deve fare comunque, di tre a cinque sedute, due, al comienzo due sedute per settimana, per vedere del, del risultato qua, lo che ho provato comunque, ho provato due settimane, ho fatto, ho visto, due settimane è molto corto, dopo mi hanno detto, come io non avevo tanto, mi hanno detto, magari puoi provare di sparsiare un po' le, le sedute, ose, non fare tutte le settimane, sino magari do, una volta alla settimana, una settimana, bueno. Ma comunque io ho detto, beh, questo metodo, eh, io sentiva che, che faceva qualcosa, niente di, 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 di spettacolare, si è provato che funziona, sì, la, ose, l'azione che fa quello, app, apparato, quello apparecchio, sul corpo, funziona, perché fa una soluzione, che lavora tutta, tutte le parti, dove c'è la celulite localizzata. Ma, ta 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 ta, oggi io, Monica, io porto una soluzione, che io solo so che voi, no, oggi il mio primo video ho così così di presentazione però penso che oggi nostra amicizia è per tutta la vita ragazzi allora io vado a presentare quello che sostituisce a questo apparato che è molto 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 conosciuto, voi magari tutte la casa lo ce l'hai e vediamo come funziona, un attimo ok? ok adesso cominciamo la dimostrazione guardate bene che io faccio, io ce l'ho un po' di cellulite io ce l'ho un po' di cellulite di qua, questa parte di qua che è molto complicata per me voi io non lo so magari le gambe, le glutei, questa parte di qua io ce l'ho qua il problema, qua un po' e anche un po' sotto qua allora io faccio, aspetta che voi guardate bene io faccio comunque la dimostrazione se hai una domanda, se qualcosa vuoi sapere di più mi fai la domanda va bene? la domanda Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.